Partecipare alla Scuola di Dottrina Sociale della Chiesa è il titolo della fotonotizia centrale della copertina del numero di vita nuova in edicola a partire da domani. Come sempre il settimanale diocesano si concentra su questioni dottrinali, di politica ed attualità e di cultura e spettacolo. La parte di vita nuova è incentrata sulla vita della diocesi, questa settimana si sofferma ancora sulla Cattedra di San Giusto, giunto ormai alla conclusione del ciclo quaresimale, ma dedica notevole spazio alla Scuola Diocesana di Dottrina della Chiesa, pubblicando la prolusione dell'Arcivescovo Crepaldi all'inaugurazione del nuovo ciclo. Per quel che concerne lo sguardo all'attualità, a farla da padrone sono ancora le tematiche collegate al disegno di legge Cirinà. L'editoriale del direttore Stefano Fontana prova fra l'altro a tracciare il futuro politico del movimento Il Popolo della Famiglia, sorto dalle esperienze del Family Day, aderito da molti con entusiasmo ma oggetto di parecchie critiche. Vita nuova procede poi nell'analisi di quei progetti educativi che possono compromettere l'approccio corretto alla sessualità, contrapposti alla partenza della prima scuola parentale di Trieste. Al solito molto presente la cronaca della vita culturale triestina e come d'uso Vita nuova verrà poi distribuito anche nelle parrocchie.